Torna a Firenze by Tourism Online, una due giorni dedicata alle nuove frontiere dell'innovazione digitale nel turismo. Ha un ruolo determinante, il 91% di chi sceglie un viaggio lo sceglie almeno una volta nella vita su internet, il 68% di chi sceglie un itinerario lo ha almeno una volta seguito o conosciuto tramite internet, quindi questo vi dimostra quanto l'innovazione ha un ruolo in questo settore. Come Ministero abbiamo tra l'altro firmato con lo sviluppo economico un progetto guida per quanto riguarda l'internet gratuito nelle porte d'Italia, cioè stazioni e aeroporti nelle città della cultura, esempio Matera e nei luoghi balneari, in maniera che i turisti che accedono nel nostro paese possano accedere a un servizio internet completamente gratuito. E sono molte le novità di questa edizione 2016 del BTO. Siamo giunti ormai alla nona edizione, questo è il nono anno della manifestazione, una manifestazione nel corso degli anni si è affermata a uno degli eventi europei più grandi dal punto di vista del turismo digitale e quest'anno abbiamo voluto concederci una scelta per quanto riguarda il tema un po' diversa da quello che abbiamo fatto in passato. Quindi siamo andati su un tema che è il perché rispetto al passato e che abbiamo trattato sempre il come si fanno le cose all'interno del mondo digitale. Questa scelta ha fatto sì che la manifestazione di quest'anno sarà profondamente diversa, almeno nelle due main hall, perché gli argomenti trattati andranno un po' oltre alle mere descrizioni di che cosa i grandi player nel mondo del turismo fanno, ma cercheremo di capire perché lo fanno, come si animano all'interno di una struttura economica molto importante.